cari amici benvenuti in questa nuova puntata dedicata agli under school è il momento di andare a dormire perché abbiamo passato la giornata a uccidere gente abbastonata dove non vi dico quindi è giusto che ci facciamo una bella dormita e magari anche un bell'incubo ora con chi si sta baciando senpai stavolta? con lei! guardate com'è contenta ma... sono senpai? non ci posso credere sono senpai e devo trovare un modo per svegliarmi ma quanti cuori ci sono qui davanti a me? praticamente tutte le ragazze della scuola mi vogliono è una cosa tipica dei senpai ho creato qualche piccola compensazione poligonale ma cosa? no! no! cos'è sta storia? quindi io non posso provarci in sogno con le altre ragazze perché altrimenti vengo ucciso realmente capisco questa donna mi fa paura sì ma vi rendete conto di quanti cuoricini ci sono in giro per la scuola? praticamente tutte le ragazze mi amano beh sono i sogni di Ayano in fondo capisco che abbia le paranoie per senpai ma mi sembra eccessivo tutto questo ah aspetta forse ho capito lì c'è Akari io devo andare a baciare Akari per svegliarmi sarà meglio prima che mi faccia fuori di nuovo su baciala baciala hai per caso bisogno di un granchio che ti canti la serenata? vai! oh finalmente oh che bel sogno spero che diventi realtà adesso andiamo a scuola chissà che oggi non ci facciamo per la prima volta ma figuriamoci oh ops e questa chi diavolo è? chi è questa ragazza senpai? io sono Moriyama Yuki a sua moglie eh? come moglie? beh è per un'antica tradizione quando siamo nati i nostri genitori si sono messi d'accordo riguardo il nostro matrimonio una volta cresciuti ieri è il mio compleanno quindi adesso andò a vivere con il mio fidanzato come è giusto che io faccia ah sì e vedremo sta già scavando la fossa eh no no mi dispiace non ti permetterò di sposare senpai allora cominciamo con cercare qualcosa di affilato tipo una katana direi che è perfetta ti piacciono le cose tradizionali? che c'è di più tradizionale di un bel seppuku? eccoti qua eccoti qua aspetta magari non è un buon posto ma io ci provo lo stesso che ne dici? vuoi ancora sposare senpai? dove è finito il corpo? ah ok è caduto di sotto dalle scale perché sono inesistenti capisco una ragazza sta per sposare uno dei nostri studenti? dite che parlate di questa studente ops mi hanno un pochino notata stavolta beh parlavano di me mi sono avvicinata per sentire è ovvio no? vuoi sposare senpai hai detto? sai come si dice nei matrimoni? finché morte non vi separi e la morte vi separerà subito addio per la seconda volta ora cerca di non cascarmi di sotto come l'ho detto ma che razza di scale avete da queste parti? ops mi sa che hanno capito che sono stata io? no la prof non si può ammazzare mamma mia oh oggi non riesco a farla franca eh un giorno mi spiegate che cosa ci fa un guimaldello a scuola ma ora non mi interessa saperlo vivo con il mio futuro marito e voglio venire a frequentare la sua scuola ma tu guarda che carina ha già preso accordi per trasferirsi qui e accordi col becchino invece no? sta andando dall'infermiera beh tampone aveva più bisogno di quello che pensa vieni un po' qua carina vieni 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 qua vieni qua vicinati su corri un po' di più però fatality ops chissà cosa è successo alla sposina no dai non mi scivolai per la terza volta a tale scale non mi scivolai non sono sabbie mobili non sono sabbie mobili accidenti guardatela lì guardateli cosa sta facendo ma non è possibile sembra che qualcuno l'ha ben piccata dite che ce la faccio a prendere invece il cadavere in qualche modo ok abbiamo capito stavolta è facile da uccidere ma è difficile da trasportare uh un'arma nuova carino bene bene vediamo se con questa riesco a fare le cose fatte bene senpai smetti di parlare con quella azotica ok ora non sei più sulle scale ora non sei più sulle scale ora sei in pianura dai muori muori no porca miseria mi ha visto devo aspettare un attimo fuori ora vuoi morire per favore su fai quelle maledette scale vai sali ancora un pochettino ancora un pochettino oh brava ora no 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 ora dai cadute cadute ok posso portarla via questa volta ce la posso fare dai prendila 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 in braccio è l'unica occasione che abbiamo non farti vedere da nessuno mi raccomando più si va avanti qui più gli omicidi sono difficili da fare prof non mi guardate non mi guardate non si sono sarà un problema passare qui eh credo che mi abbiano un po' vista è la mia occasione è la mia occasione dai muori muori crepa 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 schifosa donna non si sposa il mio senpai capito non si sposa no sta arrivando una studentessa prendila prendila no no non è vero non è un murder non è un omicidio non è niente non è successo nulla in questa scuola non succede nulla di strano si è sentita poco bene io la sto portando in bagno ditemi che non c'è nessuno qui fuori a guardarmi oh finalmente abbiamo trovato un bel buco da scavare ora vediamo di buttarla dentro la prima di non farsi vedere troppo in giro grazie buttala giù buttala giù perfetto tanto chi se ne frega questa donna voleva sposarsi senpai non ha nessun diritto di esistere ops qualcuno mi ha visto mi avete visto in troppi temo e basta guardare tutti basta credo che mi abbia visto senpai forse per te brutta schifosa accidenti si è aperta la porta si è aperta la porta del preside speriamo non mi abbia visto nessuno ma ha visto qualcuno ora vediamo di fare una cosa io e te insieme no 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 sta arrivando gente dobbiamo andarcene subito subito corri 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 scappa che questa gente è forse ma porca miseria mi ha visto fatti gli affari tuoi tu laggiù eeeh dite che come sepoltura può starci si dopo tutto è solo leggermente frizzante ma dopo tutto non si nota che c'è qualcosa seppellito qui dentro ops ora cara la mia futura mogliettina morta andiamo a farci un bel getto insieme io e te nella tua bara dai forse stavolta ci sono speranza di fare una buona sepoltura dai richiudiamocela facciamo in modo che nessuno ci veda c'è una manina che è spuntata dal terreno stile sposa cadavere vabbè facciamo finta di niente perché a voi non crescono le mani in giardino no guarda l'infermiera è in giro per la scuola come se niente fosse infermiera sai mica se si stanno cura per i cadaveri senpai non ti preoccupare non dovrai più sposarti con quella brutta becela ci ho pensato io senpai io ho fatto una cosa no guarda sono troppo stanco in questo momento non ho voglia di pensare al matrimonio mi volevi dire qualcosa sì volevo dirti che vorrei stare un po' di tempo con te ma perché no tanto mi devo sposare chi se ne frega ma tutto sommato questo senpai forse un po' di affetto per la nostra yandere potrebbe anche avercelo visto cosa succede quando non si riesce a uccidere una persona la prima volta che si clona nello spazio tempo te ne ritrovi 50 tutte insieme da uccidere andiamo chi è la mia vittima oggi ok quante vittime devo fare accidenti è un sogno ho passato tutta la giornata a uccidere seppellie gente pure di notte ma guarda qui è ovunque ci sono due tre quarantamila quante ce ne devono essere queste due forse le posso uccidere fuori una e fuori due due ho detto due ho detto due ho detto due grazie muori per favore grazie gentilissima proviamo a far fare anche queste che poi in realtà sono altre persone ma io le sto scambiando per le spose di seppai prof non guardate è un sogno questo io non sto facendo niente di male sto solo sognando di uccidere persone guarda questa tutta sola sotto un lampione che ci fai? cosa ci fai qui tutta soletta? voglio rispettare me? oh meno mai le ho ammazzate tutte ah è già mattina oh meno male che non era vero di nuovo incubi è cara cari devi abituartici finché non riusci a metterti con senpai sarà così vediamo se senpai è distrutto per la morte della sua mogliettina non gliele può fregare de meno sei pronta per l'esame medico? non ho neanche cenato per perdere peso ma non so se ho fatto bene non mi piace quando le donne stanno da sole con senpai soprattutto le infermiere sexy venite a me dopo le lezioni per un esame più approfondito non te ne pentirai che cosa sta facendo? però ok non ci può essere un'infermiera che non mette le sue manacce addosso a senpai hai nessun gioco cara infermiera ho cucinato una torta appositamente per te vediamo se ti piace il coltello infermiera ti senti bene? secondo me potessi stare anche un po' meglio di così che bello che il sangue sparisca da solo ora aspettiamo un attimino che la gente se ne vada magari forse dovevo aspettare che le persone andassero a lezione prima di ucciderla da quando le profe stanno a fumare davanti al mio cimitero? questo può complicare la situazione speriamo che se ne vadano oh ciao senpai ciao sei bellissimo è suonata adesso la campanella ho tutto il tempo di tascinare l'infermiera dove deve essere tascinata se non ci sono professoresse in giro cara infermiera così impari che il mio senpai non va esaminato più del dovuto io lo sapevo che le cose sarebbero finite male me lo sentivo da quando ti ho vista la prima volta ma tu no tu hai voluto ucciderti in tutti i modi dopo tutto è colpa tua è pesante sta donna io non sono mai a lezione quando ci dovevi essere è possibile che nessun insegnante abbia fatto 2 più 2 ancora no eh? cara infermiera per te che sei vestita di rosa ho avuto un trattamento di riguardo ho già scavato la buca quindi vai riposa in rosa e vabbè dai sepoltura quasi perfetta sono una mano glicciante senpai andiamo a farci un giretto lo so che ci sono lezioni in questo momento ma chi se ne frega oh acari sei tu mi dispiace non posso venire a fare una passeggiata con te adesso devo riscrivere il mio test e devo anche andare dall'infermiera non ho capito bene che cosa vuole perché sono un imbecille ultimamente molte ragazze hanno provato a tirare la mia attenzione ma poi sono sparite nel nulla mi sento così solo l'unica che c'è sempre vicino a me sei tu l'hai notato finalmente è perché io ti amo baciami senpai non ci posso credere sempre alla facciata che bello finalmente un senpai e una yandere che stanno insieme a proposito che piani hai per stasera? il mio appartamento è vuoto e non voglio più restare da sola mi sembra una cosa intrigante andiamo alla fine siamo arrivati a casa mia ho aperto la porta ma le mie mani tremavano ero così emozionata di essere così vicina al mio amore immediatamente abbiamo cominciato a spogliarci per la stata verso casa siamo andati in una farmacia ho chiesto a Macchio di comprare delle protezioni ma lui era molto timido comunque sia la farmacista ci ha soltanto fatto l'occhiolino e ce l'ha date ci siamo gettati l'uno nelle braccia dell'altra baciandoci quando siamo stati pronti ho semplicemente chiuso gli occhi per ricordarmi per sempre quel momento e poi siamo rimasti ad abbracciarci e baciarci per tutta la notte eravamo così felici e poi ci siamo addormentati al chiaro di luna fine che finale emozionante speriamo che anche Yandere Simulator finisca in un modo così caldo chi sta ne frega dopo tutto se il gentile della scuola è diventato una specie del cimitero piena di larve che stanno mangiando i cadavere delle spasimate di senpai quindi spero che questo gioco vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se vi è piaciuto il finale alla fine tutto sommato sono contenta di vedere una Yandere e un senpai che stanno insieme felici e contenti e che non si uccidono a vicenda che non sono trasportati in mondi paralleli dove ci sono delle idee del tempo che li costringono a fare una specie di Hunger Games comunque grazie a tutti per essere stati con me e alla prossima con Kiriandere del Tana Love ciao 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 ciao